Al via da oggi, anche nelle sedi di Como e Varese dell'Università dell'Insubria, il nuovo test per l'accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, il cosiddetto TalkMed. Questa mattina alle 8.15 la convocazione nel padiglione di via Montegeneroso a Varese e nell'aula informatica dell'edificio di via Valleggio a Como. Alla prima finestra di prove le iscrizioni sono state 721 per la sede di Varese e 311 per quella di Como. Davanti al computer, 36 studenti alla volta hanno risolto 50 quesiti in 90 minuti su quattro sezioni di argomenti. Ma la novità di quest'anno è anche un'altra. Il test è infatti ripetibile e possono svolgere la prova oltre ai diplomati e anche ai ragazzi degli ultimi due anni delle superiori. Gli iscritti al TalkMed sono stati quasi 80.000. In Italia, per quanto riguarda i posti a disposizione, ci sarà un allargamento del 20-30%, ma non quindi un superamento del numero chiuso, ha precisato il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Sul fronte accademico dunque, questa è una prima mossa per risolvere il problema della carenza di camici bianchi, che però, secondo il presidente dell'Ordine dei Medici di Como, Gianluigi Spata non basta a far fronte a tutte le criticità. Corriamo il rischio di avere tra dieci anni dottori formati, ma non in tutte le specializzazioni, commenta Spata e poi aggiunge il problema numero uno oggi è che non siamo in grado di garantire agli studenti un continuo informativo. Una questione, insomma, di organizzazione e non di risorse. A preoccupare il presidente dell'Ordine dei Medici è inoltre il progressivo allontanamento dalla medicina del territorio. Nel Comasco mancano 100 medici di famiglia, sottolinea Spata, e ciò significa, per i pochi che lavorano, un aumento del massimale fino a 2.000 pazienti. Allarmante, in vista dei prossimi anni, anche la carenza di infermieri. Soprattutto in queste zone, conclude Spata, siamo davanti a una vera e propria fuga verso la Svizzera, dove gli stipendi sono più alti.